Dal 5 all'8 novembre Alto Pascio diventerà la capitale nazionale del teatro studentesco. Al teatro Puccini andrà infatti in scena la rassegna Strade Maestre, che porterà nella città del Tau 500 studenti attori di 8 scuole italiane e una spagnola. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Maurizio Marchetti insieme all'assessore alla cultura Nicola Fantozzi. La rassegna è promossa dal comune in collaborazione con l'Associazione Nazionale per la promozione e la ricerca teatrale nelle scuole e nel sociale e coinvolge scuole primarie e secondarie di Alto Pascio, Udine, Mestre, La Spezia, Sorrento, Ostuni, Figline Valdarno e Ferrara. Ci sarà anche una scuola spagnola di Santiago di Compostela. Io credo che sia molto importante perché oltre che lavorare con il preparare le stagioni di prosa come abbiamo fatto, come stiamo facendo, con dei risultati, io credo che per noi il lavoro fatto con i ragazzi che abbiamo cominciato a fare ormai da alcuni anni sia importante. Importante perché il coinvolgere le scuole, il coinvolgere il tessuto sociale per noi è qualcosa di fondamentale. Gli spettacoli saranno rappresentati la mattina e la sera al Teatro Puccini, a partire da giovedì e fino a domenica, con ingresso libero. In programma anche un convegno dibattito venerdì 7 novembre nella Sala del Consiglio Comunale sulle potenzialità del teatro come strumento di cittadinanza attiva.